Di un pedaggio per la FIPILI si parla da anni, sempre accolto con una valanga di proteste, soprattutto per le condizioni della strada, inadeguata fin dal suo debutto con il primo tratto inaugurato nel 1970. Il presidente della regione, Eugenio Gianni, ha sempre escluso che il pedaggio fosse destinato alle auto. In modo più assoluto il pedaggio dei residenti con la loro auto sulla FIPILI non ci sarà. Quando se ne parla è sempre riferito ai TIR, che molto spesso scelgono la Firenze-Pisa-Livorno proprio per risparmiare sul ticket che pagherebbero nella vicina A11, la Firenze-Mare. Rappresentano circa il 15-20% dei 55.000 veicoli che ogni anno percorrono, spesso fermi in coda, l'arteria regionale. Assotir e altre associazioni di trasportatori hanno sempre reagito dicendosi pronti alla rivolta e chiedendo piuttosto una visione complessiva sulla sicurezza e un tavolo di confronto con la regione sul tema delle infrastrutture. Adesso, almeno in base a quanto riporta l'edizione fiorentina di Repubblica, ci sarebbe sul tavolo di Gianni uno studio specifico da lui stesso commissionato all'Advisor KPMG, secondo il quale una SPA pubblica, Toscana Strade, si occuperebbe della manutenzione di una delle arterie più disastrate della Toscana, oggi responsabilità di AVR. Gli interventi sarebbero pagati con il pedaggio per camion sopra le 3 tonnellate e mezzo, che porterebbe tra i 12 e i 15 milioni di euro l'anno, e con le multe degli autovelox, circa 7 milioni e mezzo. Un tesoretto che consentirebbe alla nuova società di manutenere e anche allargare la strada in alcuni punti, necessario comunque il vaglio della Corte dei Conti. Se tutto andasse come previsto, l'operazione potrebbe partire già dal prossimo anno e iniziare nel 2024. Occorrerebbe creare caselli ad hoc e non mancherebbero le proteste degli autotrasportatori, che comunque risparmierebbero il 20-30% rispetto al pedaggio autostradale. Il presidente Gianni, scrive Repubblica, avrebbe trovato il dossier convincente e sarebbe pronto a portare in Consiglio regionale già a febbraio lo statuto della nuova S.P.A.